SOS TCS da Piazza Sabucina a Santa Barbara, ci sono diversi problemi? I problemi sono i topi, visto che le erbacce dell'entezolfi non le hanno pulite, certi topi si stanno aumentando, le fogne non le puliscono, non vengono a buttare la solita bustina per farle sparire, nelle palazzine purtroppo abbiamo avuto problemi che dalla signora è salito un topo dal gabinetto e quindi vediamo se queste istituzioni possono fare qualcosa perché non ce la facciamo più. Ora di più per i topi, un topolino piccolo con la grattera all'antica si può prendere, ma un topo di fogna se entra in casa è pericoloso, possiamo scappare di casa, quindi diciamo all'istituzione per favore di venire a disinfettare i tombini e di pulirli e basta perché siamo stanchi.